Allora mi devo arrabbiare, se ti fa piacere Che muscoli, sei un atleta Prochiamo ancora? Dacci un taglio Slim, ho fame Ancora una volta? Prochiamo ancora? Prochiamo ancora? Prochiamo ancora? spero di essere stato chiaro molto chiaro quando il signor ormond leggerà quello che è scritto non sarà contento scusa per questa volta non glielo far leggere a ormo vedrò